Buonasera, buona domenica. Vi volevo dire che stasera su Instagram c'è una mia prima diretta. Se mi seguite mi trovate con il nome The Only Peppe Channel. Andatemi a seguire tutti quanti The Only Peppe Channel. Vi aspetto stasera ore 21.30 su Instagram. Un bacio e buona domenica. Ciao ciao.